Strada provinciale 56 della provincia di Corotone, l'ex strada statale 107 bis, mercoledì 29 febbraio 2012, chissà perché il mio orologio segna che è l'1 marzo, forse non è programmato per l'Oreo Bisistina, ma questo non importa. La strada è stata chiusa dalla provincia alcuni giorni fa, la prima volta che ci accedo ho dovuto lasciare la macchina qualche metro dietro per verificare la strada, pensavo fosse franata tutta, invece come potete ben vedere è praticamente come era prima, forse c'è stata un'altra frana, non è come era prima, mi sono sbagliato, in effetti la strada è franata per un altro pezzo perché si vede che questa frana è recente, questa caduta di massi di asfalto è recente, non è della vecchia frana, quindi la provincia ha avuto paura a lasciare aperta questa carreggiata, questa corsia dove si poteva ancora procedere, ha chiuso, ha preferito chiuso la strada, noi siamo d'accordissimo con questa scelta, l'avevamo invitato più volte il presidente Zurlo o chi per lui a farlo, ma non siamo stati ascoltati per molto tempo, da questa strada fino a pochi giorni fa passavano anche alcuni pullman della ditta romana, insomma delle ditte anche forse di altre ditte, ma fare il giro da corazzo già in queste strade pessime non è una cosa comoda, la gente se può rischia, poi c'è anche la collinetta qua che a volte franava, come vedete c'è anche fango lì sull'altra corsia che nell'ultima pioggia è stata anche invase, è chiusa e poi pulita da alcuni mezzi di una ditta privata, non so se per conto del comune o della provincia di Crotone e quindi il pericolo c'era ed è evidente, la terra è mangiata anche da sotto, quindi il rischio che col peso si potessero provocare altri smottamenti, e magari controllare del tutto la strada passando con vari mezzi, con i mezzi era palese, era evidente, quindi la strada è stata chiusa.